... Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo, ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Che cosa sei? Ma tu sai la frase d'amore cominciata, ma è finita tutto. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, ragazzi, sei il mio che è il mio occhi, proprio mai. Morda la mele. E tu ti ne. Adesso ormai, ci puoi provare, chiamami il tormento. Chiama il tormento dai, e ci sei. Tu sei come il vento, e tu sei come il vento, e tu sei come il vento. Vai qua. No. Non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. No, ma... La cosa ha aiutato, io ti mi posso sentire... Tony, guarda l'ora. Quanto la cosa mi ba... e niente quanto il momento è possibile parola 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 ragazzi un bacino un bacione tonino 1 2 3 4 lui parola quanto la aspettano 4 5 5 5 5 6